Ed ora la Spagna che sembra più reattiva, l'Italia è chiusa nella tre quarti, il pallone rilanciato in avanti verso Torres, in anticipato però la formazione azzurra che recupera il pallone sulla tre quarti con Di Rossi, cerca dell'andare sulla sinistra per Chiellini, si fa vedere Giaccherini tra gli spazi e anche Pirlo, riceve il centrocampista della Juventus, prova a partire centralmente, accelera Pirlo, ancora Pirlo dentro per Di Natale, posizione regolare, Di Natale, Di Natale, tiro e c'è il gol! Il gol, l'Italia è in vantaggio, grandissimo gol di Di Natale ma ha fatto tutto Andrea Pirlo, 1-0 dopo 65 minuti, un grandissimo gol per Di Natale che ha partito sul filo del fuorigioco, sul tocco in profondità di Andrea Pirlo ma che grande accelerazione delle centrocampiste della Juventus, per Di Natale è stato tutto facile, in corsa, entrare in aria, piazzare sul secondo palo e battere Casillas, Italia 1-0, Piazzani a zero!